Gli abitanti della zona del Matto e Ristradella, la periferia di Arezzo, segnalano la presenza costante di furti in abitazione e alcune di queste abitazioni sono state oggetto anche di atti vandalici. Che cosa è successo esattamente? Niente, nella mattinata del 19 agosto, attraverso le telecamere, abbiamo appurato che c'è stata l'intrusione di una persona che per 12 minuti ha gironzolato ed entrato anche nella struttura. Ha trovato delle chiavi in lavanderia, è entrato nella struttura e nella struttura c'era una luce accesa, quindi è una persona abbastanza coraggio da questo punto di vista. La cosa inquietante è che è entrato con un bastone di legno e quello ci ha un po' preoccupato alla fine. Di danni non ce ne sono stati, in generale li stiamo appurando ancora, però quello che ci interessa è magari un po' più di tranquillità e soprattutto di serenità in queste zone con un po' più di controllo. Perché ecco, l'impressione è che non sia un caso isolato, ce ne sono stati altri anche nelle settimane scorse. Sì, la sera prima alle 10 ho potuto appurare, ci sono stati nella zona altri fatti di cronaca del genere e quindi ho detto perché ci diamo un attimino, dobbiamo avvisare un po', no? E quindi informare tutta la zona di questo pericolo, perché se è girato la mia di casa sarà stata in altre strutture ed è bene che magari insieme riusciamo ad essere un po' più tranquilli. Magari quindi accrescere un controllo anche comune per segnalare poi eventuali fatti particolari alle forze dell'ordine. Assolutamente sì, è stata una zona tranquilla negli ultimi anni e ora non vorrei che la cosa precipitasse.